Nelle ultime settimane sono 25 le persone segnalate nel corso dei controlli di polizia eseguiti sul territorio della nostra provincia e sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ai predetti i poliziotti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina. L'uso personale di sostanze stupefacenti è sanzionato amministrativamente con la sospensione della patente di guida, dei certificati di abilitazione per la guida di motoveicoli e ciclomotori, con la sospensione della licenza di portodarmi, del passaporto e del permesso di soggiorno. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si tiene conto della quantità della sostanza, che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con il decreto del Ministro della Salute e della modalità di presentazione delle stesse, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato e ad altre circostanze. La persona trovata in possesso di sostanza stupefacente viene segnalata al prefetto ed è invitata a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.